il brian solo non scia in settimana o meglio gli piace perché non c'è nessuno ma se è un giorno lavorativo c'ha un senso di colpa grande come una casa e siciliano siciliano se scia in settimana è tutto contento perché si sta godendo la vita il prianzolo ovviamente fa il mattiniero arriva prima dell'apertura degli piatti a mettere in pressione lo schifaro il siciliano fa il giornaliero due ore di pausa pranzo più varie pause a prendere il sole il il prianzolo in un attimo di pausa chiama in bottega a chiedere se va tutto bene siciliano in un attimo di pausa si siede il caffè la sigaretta il brian solo non l'ha detto a nessuno che andava a sciare solo ai più stretti collaboratori a tutti gli altri ha detto che doveva vedere un cliente il siciliano alle storie su facebook su instagram il reel il video su tiktok la videochiamata tutti devono sapere che si sta divertendo e quindi e quindi il prianzolo una sciata di corsa e di nascosto e tornare in bottega perché la vita è fatica per il siciliano invece l'importante è godersi la vita e mi sa che io sono più siciliano che prianzolo non l'avevate capito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti